Qual è la connessione tra coscienza e cognizione? La coscienza e la cognizione sono termini usati per descrivere determinati attributi della personalità o della mente. La consapevolezza del proprio ambiente, degli altri e di se stessi è considerata come coscienza. La cognizione ha molteplici significati in varie discipline. In generale, le abilità cognitive sono quelle implicate nel ricordare, nel pensare in modo astratto o nel risolvere i problemi. Gli umani si credono nell'avere sia coscienza che cognizione. Testare o discernere coscienza e cognizione è difficile, anche le definizioni univoche sono difficili da trovare. Un segno di coscienza è la capacità di autoriconoscimento in uno specchio. Un bambino sviluppa questa capacità nei primi 18-24 mesi di vita. Gli scimpanze e le scimmie sono noti per avere questo attributo, così come i delfini e gli elefanti. La cognizione non è solo segnalazione di neuroni, come accade quando un cane pensa di starsene tranquillo quando gli viene detto di rimanere. L'addestramento di quella natura sembra accadere a un livello inferiore dell'attività cerebrale. Si potrebbe obiettare, tuttavia, che quando un cane spera in un proprietario scomparso, certamente sta ricordando alcune esperienze. Sta pensando al proprietario in modo attivo e consapevole, ed è consapevole di qualcosa di sbagliato o di disagio. Coscienza e cognizione sono difficili da separare in questo caso. Gli elefanti hanno una forte società matriarcale. Elefanti femmine che hanno perso un vitello piangeranno il vitello per anni, tornando a toccare o carezzando le ossa. Le mandri hanno sofferto quando sono state rimosse dalle loro comunità. Lo scambio sociale sembra essere una parte della coscienza e della cognizione, sebbene non sia un criterio sufficiente. Le formiche e le api, sebbene molto sociali, non sono pensate come esseri coscienti. Si pensa che la coscienza e la cognizione abbiano origine nel cervello, ma dopo anni di studi di imaging da tutto il mondo, non sono state identificate strutture definitive. Piuttosto, possono essere coinvolte alcune diverse attività cerebrali, il che solleva la questione di come la continuità della consapevolezza di sé viene preservata mentre il suo sito fisico cambia. Un teorico, Stan Franklin dell'Università di Memphis, che ha sviluppato un programma software per imitare la coscienza, paragona il legame tra coscienza e cognizione a un programma di elaborazione in due parti. Nella prima fase, il sistema sensoriale raccoglie i dati elaborati in aree particolari. Quando sono stati accumulati dati sufficienti, viene trasmesso a più postazioni di elaborazione. Un altro aspetto della coscienza e della cognizione è l'osservazione che i bambini suppongono che la coscienza sia continua e senza confini. Racconti di bambini simili da tutto il mondo hanno personaggi trasformati in animali o piante e trasformati di nuovo. Un esempio è il principe Ranocchio che aspetta un bacio da una principessa per tornare al suo stato originale. Il bambino non perde la traccia dell'identità del personaggio o dubita che la sua esistenza sia ininterrotta. Questa continuità è al centro dell'autocoscienza.